Mettete sempre la luminosità al massimo, è passata la parola, è importante. Su Youtube stanno spaccando i culi, ma se si girano gli eserciti, esperiscono gli eroi. C'è la guerra, poi adesso cominciamo a farlo a noi, non sorridete. Mandolino Nieto stava di casa nella Giudecca, non lontana da qui, ma poi ormai vecchio si è trasferito altrove, credo in campagna, per coltivare le sue erbe della salute. Noi sapevamo che da giovane aveva curato persino Araccarlo. Il primo degli angiò, ma non lo tenevano in gran conto, forse perché viveva miseramente e molte delle avventure che raccontava sembravano inventate. Sicuro che vive in campagna. Il nostro signore, rispose l'ostra, tutto quello che so e che racconto io l'ho udito da coloro che entrano nella mia locanda per bere, mangiare o passare la notte. Come verificare la sincerità dei miei ospiti? Anche loro signori potrebbero essere due nemici del nostro amatore o due briganti reduci dall'avere accoppato un cardinale sulla strada per Roma. Giovanni scoppia a ridere, imitato dal saraceno. Non dobbavano stare attenti. Napoli colorato, rumorosa e allegra, sembrava percorso da un impercettibile brontoglio sotterraneo, come un vulcano che sta per esplodere in terremoto e vomitare l'asso. Capitolo 9 La bella Giudia L'ostra dell'aurinale di nome Capino e sua moglie Menachella Piszczerà 들so